Come da copione, i topi d'appartamento tentano il colpo quando i proprietari si allontanano. Hanno aspettato che la famiglia uscisse di casa per le festività pasquali per mettere a segno un furto. Per il momento, nonostante il ponte appena concluso, è stata segnalata una sola infrazione dagli uomini dell'arma, che sono intervenuti a seguito della chiamata al numero unico d'emergenza. Stavolta a finire nel mirino dei malviventi, l'abitato di Viverone. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbero forzato la porta d'ingresso e dopo aver messo a soccuadro alcune stanze, si sarebbero impadroniti di denaro contante. Il valore del maltolto è ancora da quantificare. Ad accorgersi del furto, i proprietari, una volta rientrati a casa, ed hanno subito richiesto l'intervento dei carabinieri, che a loro volta si sono subito attivati per risalire all'identità dei responsabili. Al baglio anche le immagini di videosorveglianza dislocate in paese.